Sono le 7 e un minuto di martedì 20 settembre 2022 e bentrovati amici alla rassegna stampa di Fano TV. Cominciamo subito con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi. Non è un santo ma sono tanti tanti santi, sono i santi martiri coreani. Sono stati le vittime del proselitismo religioso che fu condotto in Corea a partire dal 1700. Nel 1794, pensate, in Corea c'erano circa 4.000 cristiani, numero che andò poi aumentando nel corso dell'Ottocento. Il primo sacerdote coreano si chiamava Andrea Kim, fu carcerato e giustiziato dalle autorità insieme ad altri 101 martiri che vennero poi proclamati santi da Papa Giovanni Paolo II recentemente nel 1984. Quindi di oggi festeggiamo questi martiri che appunto furono uccisi, perseguitati per la loro fede. Veniamo alle previsioni del tempo. Questa mattina a Fano era sotto un diluvio d'acqua, vento e pioggia hanno imperversato sul litorale ma secondo le previsioni il tempo dovrebbe migliorare nella giornata di oggi. Tempo prevalentemente stabile e solleggiato salvo la notte sui Sibillini con possibilità di piovaschi. Le temperature sono ancora in diminuzione, le minime sono di 15 gradi, le massime non supereranno i 21 gradi, i venti spireranno sulle coste da una direzione di est nord-est così come sull'entroterra e le temperature sono ancora in calo, maggiormente in calo. Ormai siamo prossimi all'autunno, mancano pochissimi giorni e quindi il tempo si guasta dopo la grande siccità che c'è stata questa estate. Veniamo ora alle notizie di oggi e vediamo come ancora il maltempo, come ancora la tragedia che si è abbattuta sul centro Marche, sul centro delle Marche e tiene ancora banco sui giornali. Vediamo il titolo che appare sulla prima pagina del resto del Carlino sulla edizione di Pesaro. L'umifragio ora indaga la procura ma quello che colpisce al cuore, quello insomma che desta ancora più emozioni e sentimenti, è la sorte del piccolo bambino di otto anni di cui ancora non si rinviene traccia. La forza di un padre, io spero ancora, è il titolo che appare sul resto del Carlino sulla fotonotizia centrale. Lo zaino del bambino trovato addirittura a otto chilometri dal punto in cui l'auto in cui era il bambino insieme alla madre è stata travolta. Le ricerche continuano per trovare questo corpicino ma comunque il padre, lo vedremo anche poi nell'interno del giornale, spera ancora, magari dice è stato traumatizzato, è svenuto da qualche parte oppure si è perso ma io spero che sia ancora vivo. Quindi apriamo il giornale, il resto del Carlino, vediamo un po' i titoli che si riferiscono a questo triste momento delle Marche. Mattia ha trovato lo zaino, il papà spera ancora, era a otto chilometri dal punto in cui l'auto che guidava la madre Silvia è stata travolta dalla piena e oggi si ricomincia a cercarlo. Spero di ritrovarlo magari svenuto o nascosto perché si è impaurito la forza di un padre, un padre che non vuole credere all'epilogo più drammatico che possa verificarsi. Curcio, non è il momento di puntare il dito mentre da una parte continuano appunto gli aiuti e le attività per cercare di ripristinare la normalità in questi territori, parte anche un'inchiesta per stabilire le responsabilità, se ci sono, di quanto è avvenuto, ovvero non è stato avvisato nessuno di quanto stava accadendo. Comunque al momento dice Curcio, Curcio che è il capo del Dipartimento della protezione civile, dice ora pensiamo ancora a sistemare le cose, poi per quanto riguarda le responsabilità vedremo dopo. Il capo della protezione civile nei comuni del disastro, certo il tema della polizia dei fiumi esiste, ha dichiarato, è l'allerta bancato, le indagini sono in corso. Ebbene Fabrizio Curcio ha visitato, ha compiuto un sopraluogo a Cantiano, a Frontone, a Serra Sant'Ambondio e a Pergola, accompagnato dal prefetto Tommaso Ricciardi, dal vicepresfetto Antonio Angeloni e dagli assessori regionali Francesco Baldelli e Stefano Aguzzi che sono i rappresentanti del territorio. Il responsabile della protezione civile ha incontrato i sindaci dei quattro comuni, Alessandro Piccini, Daniele Tagnani, Lodovico Caverni e Simone Guidarelli, facendo con loro il punto della situazione e prendendo visione delle principali criticità di ciascun territorio. Insomma c'è una grande attenzione, almeno quella da parte delle istituzioni. Ma non solo le aziende, non solo le famiglie sono in ginocchio, lo è anche l'agricoltura. Agricoltura in ginocchio, rete stradale a pezzi, forti danni a vigneti e frutteti, molti gli agriturismi rimasti senza accessi. La provincia dice compromesso l'80% della viabilità legata al Monte Capria. Ci sono qui intere reti stradali completamente distrutte da ricostruire. Tutte quelle che portano al monte praticamente non esistono più. È stato però ripristinato il collegamento da Serra-Santabondio all'eremo di Fonte Avellana. È un collegamento precario, si va solo con un senso ed ovviamente è aperto soltanto per i mezzi di pubblica sicurezza. Per il traffico normale ci sarà ancora da aspettare. Uno dei settori più colpiti comunque è quello del comparto agricolo. Grandissimi danni a vigneti, a frutteti, alle culture di girasole, mais e ortaggi di pieno campo. Quali sono le priorità che chiedono appunto ora che ha subito questi danni? Occorre il ripristino prima di tutto delle vie di comunicazione, dei ponti, delle strade, anche poderali. Poi il ripristino degli acquedotti. Dal punto di vista economico invece si vari subito un blocco delle bollette energivore, ovvero quelle della luce e quelle del gas e poi il blocco delle cartelle esattoriali, una moratoria sui mutui delle imprese e dei cittadini, l'estensione del credito di imposto. Insomma ci sono tutti quegli obblighi che al momento non si possono più osservare, non si possono più assolvere. Perché? Perché l'attenzione ovviamente è dedicata al ripristino della normalità e poi i danni sono quelli che devono essere riparati in maniera prioritaria e quindi magari lo Stato un po' può aspettare. Perché nessuno ha avvertito i sindaci? Ebbene questa è la domanda ricorrente che si fa per quanto è accaduto. Ebbene la procura di Urbino ha aperto un fascicolo per inondazione colposa. Nei prossimi giorni ci sarà una riunione operativa sugli accertamenti da fare. Inondazione colposa, un reato che ipotizza la negligenza e una sottovalutazione della situazione che si è creata. Punito fino a due anni di reclusione, appunto è questo il contenuto del fascicolo dell'indagine contro i gnoti che è stato aperto ieri dal procuratore di Urbino Andrea Boni. Il magistrato intende verificare se vi sono stati errori umani alla base dell'alluvione che si è verificata appunto nel territorio da Senigallia in su verso il monte, verso la Pennini nella provincia di Ancona. E poi c'è una comunità che è stata in modo particolare colpita, sono i giostrai. I giostrai hanno perso tutto, hanno perso i loro attrezzi, attrezzi costosi che vanno dai 40.000 ai 100.000 euro. Insomma non sanno più come andare avanti. L'appello dei giostrai è aiutatici. Anche il Vescovo si è mostrato solidale con loro. Erano parcheggiati a Cagli, nell'arena di Sant'Emidio. Hanno perso la totalità delle attrezzature nell'alluvione e il lavoro di tutta una vita. Hanno dichiarato senza i nostri mezzi non sappiamo cosa fare, chiediamo solo di ripartire. Ebbene anche questa è una delle comunità che ha bisogno di aiuto. Così come la comunità di Cantiano che prova a risorgere. In questo momento sono tornate acqua e luce. L'elettricità è disponibile però grazie ad un generatore, a un gruppo elettrogeno. Ancora la rete elettrica non funziona, mentre si attende il ripristino del gas metano. Alcune frazioni però sono ancora isolate. Quali sono le frazioni? Ebbene abbiamo la frazione di Pian di Balbano isolata con la necessità di installazione di un ponte mobile e di altri interventi per renderla raggiungibile. E poi ci sono anche altre case isolate che sono difficilmente raggiungibili a causa di smottamenti di frane che hanno interrotto la viabilità. E poi c'è anche qualche criticità in alcune zone per mancanza totale di servizi. Quindi soprattutto le case isolate hanno bisogno di interventi rapidi per poter soccorrere le popolazioni, gli residenti che le abitano. E veniamo alle altre notizie. Vediamo qui una notizia di cronaca sul resto del Carlino che riguarda Pesaro. Un dj accusa sono stato ferito dalla security dell'arena. Voleva entrare a vedere un evento, si tratta del Amway. Però un addetto della sicurezza lo ha fermato all'ingresso. Lei non ha i Bermuda, ha detto, e non è un abbigliamento consono. E allora cosa è successo? È scoppiata una lite, qualcuno ha messo le mani addosso e lui denuncia. Un dj, si tratta di un dj fiorentino molto conosciuto in Toscana degli anni 80 e 90, Agostino Presta, di 61 anni, che ha denunciato per lesioni gli addetti alla sicurezza di una società, la Cosmopol, che regolava gli ingressi sabato scorso alla Vitifrigo Arena, che ospitava il grosso evento dell'Amway, la multinazionale americana che vende prodotti per la casa e di bellezza. Però c'è anche la replica della società che dice il racconto non è veritiero, vogliamo però riappacificarci con lui. Insomma, qualche bisticcio c'è stato, poi bisogna vedere come è andato esattamente. A Isola del Piano c'è stato un incidente d'auto, uno scontro tra automobili che ha prodotto tre feriti. La più grave è una bambina di nove anni e ricoverata nell'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. È stata coinvolta ieri appunto in questo incidente uno scontro frontale tra due automobili avvenuto lungo la strada provinciale tra Monte Felcino e Isola del Piano. Ebbene, verso le 7.50 la bambina era in viaggio con la madre, una 36enne di rete a Isola del Piano, quando, per motivi ancora da accertare, sono in corso appunto di verifica da parte della polizia locale. È avvenuto questo scontro con un'altra auto proveniente in senso opposto, guidata da un uomo di 76 anni, insomma del 46, il quale ha anche lui riportato ferite alla fronte. Insomma, comunque non tutti, insomma, non ci sono gravi, gravissime condizioni, insomma. Sono stati ricoverati, però se la caveranno. Veniamo anche, ancora, sulle pagine del Carlino per rilevare questo articolo. Si tratta della economia del futuro, come cogliere la sfida. È stato oggetto questo argomento di tre incontri di approfondimento promossi dalla Università di Urbino e dall'Arcidiocesi, con ospiti prestigiosi, tra cui De Bortoli e Zamagni. La vocazione di un imprenditore è nobile, ma è necessario che egli si lasci interrogare da un significato più ampio della vita, per servire veramente il bene comune e rendere più accessibile per tutti i beni di questo mondo. Ebbene, questa è una citazione del Evangelii Gaudium, la prima esortazione apostolica di Papa Francesco, che è stata presa come esempio, come monito per avviare questo confronto tra questi prestigiosi personaggi. Mio figlio si poteva salvare, voglio la verità, parla il padre del diciottenne che è stato trovato in fin di vita dalla fidanzata a Gradara dopo l'assunzione di Oppio. Il dolore della madre, troppi punti oscuri. Ebbene, ci sono quasi due ore di vuoto sulla fine dell'esistenza di questo ragazzo, i cui genitori chiedono appunto di indagare per sapere la verità. Un buco di circa due ore tra la scoperta del giovane in stato di incoscienza è il momento in cui è stato chiamato il 118. Tre le persone che al momento sono state iscritte nel registro degli indagati. Si tratta della fidanzata del ragazzo per la quale è stato ipotizzato il reato di omicidio colposo, il pusher che ha venduto alla coppia la dose di 5 grammi di oppio e il padre del ragazzo che avrebbe ceduto gratis a dei ragazzi la cannabis. Insomma, c'è veramente di che indagare. Il padre del ragazzo che avrebbe ceduto gratis a dei ragazzi del CBD della cannabis legale, questo appunto dice il resto del Carlino. A questo punto siamo sulla pagina di Fano. Vediamo come il comune è ancora alle prese con il caro vita. In questo caso si tratta della illuminazione pubblica e il sindaco cerca di correre i ripari. Le studia un po' tutte per eliminare, per ridurre le spese. Si pensa di spegnere le luci dell'illuminazione pubblica da l'una alle 5 di mattina. Oppure l'alternarsi di lampioni accesi o spenti, insomma cercare di spegnerne qualcuno per ridurre la spesa. E poi ieri in piazza a Fano sono stati presentati nuove auto elettriche da parte dell'Aset. Si tratta di sei Dacia Spring e tre Opel Corsa che si vanno ad aggiungere agli ultimi acquisti per la raccolta differenziata in modalità green. Le auto elettriche saranno utilizzate nei diversi servizi per effettuare sopralluoghi. Non sono mezzi tecnici, sono auto comuni. Intanto Aset e Comune corrono in aiuto a Senigallia, dove da ieri sono operativi due mezzi per la raccolta del verde. E da ieri sono operativi anche su Pergola due pattuglie della Polizia Locale di Fano per un totale di cinque persone. Il Comune di Fano, ha detto il sindaco Massimo Seri, ha già messo a disposizione i volontari della protezione civile che stanno operando nella zona di Cantiano. Sono stati i primi a partire. Miss Italia, coda polemica. C'è stata una reazione da parte della consigliera regionale del Partito Democratico, Micaela Vitri, che insomma giudica esose le spese che la Regione ha compiuto finanziando appunto le preselezioni di Miss Italia a Fano con un importo considerevole 120 mila euro e punta il dito su Mirko Carloni, il quale dice è l'ennesima passerella elettorale per questo assessore. Miss Italia, coda polemica, spesi 120 mila euro e si spengono i riflettori sulla Kermes. Peccato che sono stati poco accesi a causa appunto di quanto è avvenuto nel centro delle Marche, la tragedia causata dalla tempesta. Quindi solo una giornata ha potuto essere resa pubblica nei confronti di questa preselezioni. Erano circa 200 le ragazze che hanno aspirato a a essere introdotte nella finale, in realtà solo 21 le hanno fatte. Ma il concorso diventa però ora un caso politico con la consigliera del PD che accusa Carloni. Un'importante iniziativa invece di carattere sanitario. Visite gratis di Ottorino e la Ringoiatria al Santa Croce che apre alla prevenzione. Si tratta di una giornata che è stata realizzata per sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce dei tumori testa-collo. Entro oggi le prenotazioni. Sono visite gratuite, quelle che si possono fare all'ospedale Santa Croce. Sono visite che sono disponibili domani per sensibilizzare appunto sull'importanza della diagnosi precoce dei tumori del distretto testa-collo. Insomma non sarà necessaria l'impegnativa ma la visita dovrà essere obbligatoriamente prenotata entro oggi. Il numero da chiamare è lo 0721 882434. 0721 882434. Si può chiamare dalle 12.30 alle 13.30. Solo un'ora. Insomma dopo magari sono troppe le visite e quindi si cerca di limitare l'orario per chiamare. Vediamo la pagina del Corriere Adriatico. La pagina di Fano è dedicata da una reazione alle dimissioni dell'assessore alla viabilità e lavori pubblici Fabiola Tonelli. Dimissioni, raffica di critiche sui social. Sì, insomma l'attività politica e amministrativa di Fabiola Tonelli ha destato dei consensi ma ha destato anche delle proteste e dei dissensi per cui quando si è dimessa qualcuno si è sfogato. Ha detto che magari era ora. Ma questa è una campagna di natura misogina ha reagito così il circolo Gramsci che difende l'assessore Tonelli. Via entro il mese da oggi il lavoro privato. L'aveva detto anzi da ieri. Ieri è entrata a far parte dell'organico di un ufficio di architettura e quindi si dedicherà un po' alla sua professione privata. Non si è fatto comunque, non si è affatto spento l'eco delle dimissioni della Tonelli anche perché si aspetta chi sarà il nome del successore o della successora e quindi quando si dimette un componente di giunta ci sono sempre delle polemiche e delle aspettative per vedere come andrà a finire. Giriamo la pagina e vediamo che anche il Corriere si occupa delle auto green che sono state presentate. Le vediamo qui in questa fotografia ieri in piazza 20 settembre a Fano. L'azienda si dota anche di impianti fotovoltaici per autoprodurre l'energia. E poi c'è stato nei giorni scorsi un importante convegno di natura agricola a Fano. Si è parlato di carni, di bovini, è stato organizzato dalla Bovin Marche sulla razza marchigiana che è una razza tipica a livello locale. Sono quelle bellissimi esemplari di mucche bianche, quelle grandi corna che popolano le campagne marchigiane e che producono carni di qualità contro il rincaro dell'energia. Anche questo settore ovviamente soffre del caro energia, dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Insomma una situazione che coinvolge non solo l'agricoltura in quanto produzione dei campi ma anche l'agricoltura in quanto allevamento. E produrre, migliorare la qualità è l'unica soluzione per uscire dalla crisi. Anche il Corriere Adriatico parla dello schianto che si è verificato a Monte Felcino con il ferimento della bambina di nove anni portata in eleambulanza al Salesi di Ancona. Una iniziativa che farà parlare di sé tutta la prossima settimana è quella organizzata dall'Africa Chiama che ha organizzato la settimana africana regionale che si svolgerà da 25 settembre al primo ottobre culminando con la consegna di un premio importante, il premio intitolato a Ol'Africa nel cuore. Questa volta il premiato è stato identificato in Giulio Albanese, un sacerdote comboniano annoverato tra i maggiori esperti italiani in questioni africane. Sappiamo come l'associazione l'Africa Chiama si occupi da tempo per portare aiuto ai paesi più poveri dell'Africa, ha delle grandi iniziative in Kenya, in Zambia e in Tanzania e ora raccoglie fondi con queste iniziative, ma sono iniziative anche che cercano soprattutto di sensibilizzare. Si tratta di filmati, si tratta di convegni, si tratta di altre iniziative appunto che si svolgeranno un po' in diversi palcoscenici della città nella prossima settimana che culmineranno con la Notte Nera che si svolgerà al Bastione San Gallo dove ci saranno poi cibi etnici, musica e la consegna di questo premio. Veniamo ormai allo sport, vediamo come la Vis sia in ansia per Di Paola. Difficile averlo per il derby, sembra più grave di quelli degli altri, l'infortunio corso al centrocampista. Accertamenti anche per Bacchia Ioco, Cusumano e per il portiere Farroni. La squadra comunque ha mostrato delle grandi capacità di soffrire nonostante gli imprevisti, pagando una disattenzione nel corso del pareggio dell'ultima partita contro il Ponte d'Era. Vediamo anche la pagina di Fano. Un punto d'oro nel giorno delle emozioni. Il direttore Daniello afferma i tanti ex la premiazione del mister. Era una gara insidiosa anche sul piano emotivo, il risultato è prezioso, anche uno 0-0 può far comodo per così maturare la scalata al primo posto della classifica di questo campionato. Comunque dopo il pareggio che c'è stato nella partita dell'ultimo weekend, il Fano riprende ad allenarsi e domani pomeriggio alla trave con il rinvio della quarta giornata a causa delle elezioni politiche da domenica. La preparazione è importante per poi presentarsi nel miglior stato fisico a domenica, non questa ma l'altra ancora nel mese di ottobre. E questo è tutto per il momento. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e per le notizie del giorno ad occhio alla notizia delle 20 e 30 di questa sera condotto da Simona Zonghetti per le notizie del giorno. Questo è veramente tutto, grazie per l'ascolto, a risentirci. Grazie.